guarda qui guarda qui la dura vita del postino alla mattina è cominciata male perché c'ho lo scooter che è in fare il tagliando il mio scooter personale quindi mi è stato appioppato lo scooter di un'altra zona e ovviamente è senza la benza c'ho abbinamento adesso vado a fare benzina per il collega che ha lasciato lo scooter senza la benza ciao a tutti alla prossima the postman die art ecco attaccato attaccato senti allora facciamo abbiamo visto no certo che quando trovi il mezzo senza benzina si soprattutto quando vi raccomandate dardi che la rovetta è bellissimo è bellissimo sono quelle cose che ti fanno a mano ma non tanto il lavoro ma i colleghi ma porca buttana ma sembra a me va bene a parte quello è una puntata velocissima oggi proprio perché allora non c'è Pierluigi che sta a Bologna non si sa che fino a fa non si riesce a ma sta qua Angelo allora torna allora torna poi il cavalletto parlante polesto non se sente quindi oggi sentite sentono quello che dicono si stiamo abbastanza tranquilli ecco senza poi facciamo gli auguri perché compie gli anni quando ne compie non lo so quelli che dimostra bocchi e poi dopo che tu dici il tuo aneddoto il marci lunedì e martedì giusto va in missione a Bologna a fare il corso aziendale mission in post vai da solo o accompagnato da qualche da solo quindi la moglie sta tranquilla e farà il reportage della tua missione che faremo vedere venerdì prossimo vedete quella vai con l'aneddoto perché già stiamo due minuti no due cioè quella della borsa un giorno rientro in ufficio a parte salutiamo morbido pietro 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 il nostro ex direttore ciao pietro grande anche antonia il giugge giorgio tutti si si mi avvicino vai si ma io no però vabbè e allora rientro in ufficio non riesco a fare una consegna per via dei cani allora come rientro in ufficio incontro il capo ufficio gli fa il consegno dico c'ho una consegna che non riesco a fare perché un cani come come un avvigino massaliscio che era un mastino infernale ma no era un lupo un bastardo lupo stu cacchio di cani allora pensa un attimo fa diceva vabbè ci facciamo una lettera come una lettera ci la portavano ecco questo grande pietro va bene vi rimandiamo a venerdì prossimo con il mega reportage del marcio del marcio foglini che incontrano i capi e quant'altro che sappiamo che ci guardano e che ci vogliono bene io ho saputo questo che ci guardano nell'azienda c'è chi ci guarda e il nostro lavoro piace quindi meno male natura vita del postino post man die hard ciao ciao a venerdì prossimo ciao a tutti e buona settimana ciao 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 vai come beve vai ok ecco allora è un video oggi che non finisce mai? esatto perché siccome stamattina aspetta siccome stamattina c'è la riunione qui l'assemblea sindacale c'è la mitica Tiziana salve che mi mette sempre mi piace ai video quindi come faceva? la dobbiamo fare secca stamattina poi abbiamo la collega Angela Angela vabbè Rossi ormai la conoscete nota famosa quindi ma le postine più belle sono tutte a sono qui siamo tutte qui è perché adesso sto fuori madonna no con Marcello no con Marcello oh solo eccolo tu sta Marcello eccolo Marcello Marcello saluta Marcello ciao Marcello no avevamo detto con Marcello facciamo un video dei tre minuti adesso sta diventando il Titanic vabbè ciao a tutti ciao ciao tutti i postini d'Italia è il più bello madonna è il più bello buonan no si Grazie a tutti.